Sindaco, è una precisa descrizione del suo comune o manca qualcosa? Credo proprio che sia, è difficile ricordarsi tutto, però credo che sia abbastanza completa la scheda. Io volevo iniziare proprio da, credo che a sabato la conoscono un po' tutti, però qualche distinguo rispetto all'amministrazione che è nata due anni fa, preseduta da me, va fatto? Va fatto in termini di incentivazione all'interesse verso la nostra città. Inizio proprio dall'abita trupesse che abbiamo fatto e utilizzato dei fondi PIS, circa 900 mila Euro, per ristrutturare tutte le nostre cripte bizantine, metterle in sicurezza e creare degli ambienti ospitali ai turisti che verranno e che vengono continuamente a visitare la nostra città. Come pure forse c'è stato qualche dimenticanza per un monumento che ormai quest'anno ha sancito la nascita di una fondazione importante che è il Santuario della Madonna della Scala. Abbiamo istituito con l'appoggio decisivo del comune una fondazione. Dopo aver fatto notare un po' a tutti, amministratori vecchi, nuovi, istituzioni locali e anche gli esterni alla nostra città, perché io sono un sindaco che come res ragiona in termini non localistici ma territoriali. Pertanto andava evidenziato come quel monumento che appartiene al nostro territorio era uno dei più importanti della nostra Europa. Quindi andava valorizzato e fatto conoscere un po' da tutto il mondo, così com'è. Ormai giuncono a Massafra settimanalmente dei pullman che vengono solo per visitare il nostro Santuario della Madonna della Scala, che è unico perché è stato costruito in un pendio della nostra gravina. Quindi diciamo che particolarmente attrae per la sua tipicità, oltre che per la sua storicità. Mentre per quanto riguarda i… parlerò dopo della costa, voglio soffermarmi sui nostri beni culturali e soprattutto sulle manifestazioni. Ecco perché era un po' tra virgolette limitata, perché non tutti sanno che io ho rievocato il Palio della Mezzaluna. Quindi Massafra in questi due anni, quest'anno ci sarà la seconda edizione, entra a far parte delle città storiche del Palio. Quindi abbiamo rievocato questo Palio che non si svolgeva da 50 anni, certo ci è costato tantissimo, però è stato coinvolto tutta la città, oltre agli imprenditori che si sono fatti carico di determinate spese e abbiamo coinvolto tutte le parrocchie, e quindi i nostri giovani, le famiglie e tutti quanti intorno a questo importante evento. Quindi il Carnevale non rimane oggi l'unica manifestazione conosciuta che fa conoscere la nostra città all'esterno, e bensì c'è anche il Palio della Mezzaluna. Poi per quanto riguarda invece le bellezze diciamo marine, noi condividiamo sì questa costa, ma in questi due anni l'abbiamo finalmente dotata di infrastrutture importanti e urbanizzate. Pensate che mancava persino la rete idrica, oggi i nostri abitanti di Chiatone e quindi i nostri turisti hanno l'acqua potabile. Stiamo definendo con il Comune di Palagiano e quindi con l'acqua edotta la possibilità, ma già c'è, di allacciarci alla fogna. Insomma credo che stiamo creando delle condizioni e ormai a settimane l'accio idrico anche nella zona di Palagiano. Credo che sia di veramente ottimale essere accolti nel nostro territorio e quindi anche a Massafra con tutte le urbanizzazioni possibili e necessarie per l'accoglienza e quindi per l'attrazione del turista. Certo, qui va detto e va aggiunto, ma non per fare politica, ma per dire alcune cose importanti. Forse siamo stati dimenticati per tanti anni, quindi abbraccio su varie amministrazioni, da amministratori della Regione, da amministratori della provincia. Ultimamente, per esempio, ci poteva essere la possibilità di arricchire i nostri comuni con finanziamenti esterni, perché tutti sappiamo che i nostri bilanci, ormai nel momento in cui si sceglie la strada di una pressione fiscale accettabile, non abbiamo la possibilità di investire non solo sul nostro territorio, ma in tutte quelle che sono le richieste delle nostre città. Di pertanto, avevamo bisogno di quei supporti esterni che ci potessero garantire una vivibilità diversa per noi e un'accoglienza diversa per il turista che deve scegliere di venire sul nostro territorio. Ahimè, qualche carenza c'è stata e stiamo veramente spingendo, al di là delle colorazioni politiche, a che si accorgano delle bellezze non solo culturali, storiche, ma proprio del nostro territorio nella sua completezza. Siamo veramente ricchi di tanti beni culturali, io quelli della mia città non li ritengo mai, come dire, della nostra città, della Massafra, bensì del nostro territorio, tant'è vero che vengono visitati persino da Pullman che vengono da Castellaneta o da Ginosa o da Palagiano, perché non conoscono tutti quanti il nostro territorio, come io non conoscevo fino a qualche anno fa le bellezze di Palagianello, le bellezze delle gravine di Ginosa. Credo che abbiamo la necessità, finalmente, se lo capiamo bene tutti, di fare dei plan comuni del nostro territorio, non più singoli, perché credo che singolarmente uno non si muove, se riesce a mettere sul mercato tutto quello che è il nostro territorio, credo che il turista forse viene attratto in maniera diversa e quindi con più spinta per venire e soprattutto poi noi essere in grado di accoglierlo al meglio. Un buon lavoro l'abbiamo fatto col PIS, perché ormai i nostri territori avranno un punto di accettazione poi messo in rete tra noi, quindi abbiamo sfruttato al meglio quei finanziamenti che ci venivano dati in quella occasione, non ne abbiamo perso manco uno, nessuno di noi, quindi stiamo veramente lavorando in sintonia, anche se abbiamo da colmare gravi ritardi che purtroppo non hanno fatto crescere al meglio il nostro territorio. Grazie a tutti.